Un delinquente è sempre un delinquente, qualunque sia il suo credo religioso. Non usa mezzi termini il sindaco Giuseppe Canfora dopo essere stato informato dell'arresto di Larbi Dernati, l'imam di Sarno che da sempre ha fatto da collegamento tra i rappresentanti della religione islamica presenti nell'agro e quelli di altre religioni, soprattutto cattolica. Inoltre Larbi aveva tessuto rapporti con l'amministrazione locale nel nome dell'integrazione del messaggio di pace e fratellanza da lanciare sul territorio. Il sindaco di Sarno, Canfora, ha così commentato l'arresto. Se uno è delinquente o appartiene alla religione islamica o appartiene alla religione induista o appartiene alla religione buttista, per me rimane un delinquente. L'ho fatto bene i carabinieri ad arrestarlo. E' come dire, che cosa cambia tra lei e i cattolici in seguito all'arresto di Totò Rino? Non cambia niente. La fede è la fede, un delinquente da incarcerare è un delinquente. Mi sembra, visto l'arresto e vista la causa dell'arresto, che sia uno stingo di santo. E mi sembra un vero e proprio delinquente. Ma Canfora non pensa che dietro il fermo di Dernati possa celarsi anche un rapporto o un coinvolgimento con i due episodi, accaduti a distanza di qualche mese, del ritrovamento davanti all'ufficio dei giudici di pace di Sarno di una bandiera dell'ISIS e di scritte inneggianti il terrorismo. Penso che non siano stati ancora assicurati alla giustizia quei personaggi e penso che quei personaggi abbiano agito in maniera strumentale sapendo che a Sarno c'è una colonia di cittadini musulmani. Grazie a tutti.